12esima giornata, seconda di ritorno del campionato di eccellenza femminile. Aldino Besso di San Nicolova in scena il derby terramano tra Teramo Uomene e Bellante Calcio. Due squadre vicine non solo geograficamente ma anche in classifica, a soli due punti di distanza l'una dall'altra. Pronti via il Bellante trova subito il vantaggio al terzo minuto con la prodezza direttamente da calcio d'angolo di Elisa Tomasetti che scavalca Beccaceci. La reazione del Teramo non si fa attendere, al tredicesimo Casa Santa non spreca il grande assist dalla sinistra di Muscella e in sacca Antonelli per il più facile dei tapin. Il Bellante accusa il colpo e si schiaccia in difesa, le biancorosse si rendono pericolose solo sul finire di tempo con la bella punizione al limite di Croci al trentasettesimo parata plastica di Beccaceci. La ripresa è tutta di marca Teramo, al sessantaquattresimo Casa Santa inventa un filtrante magico per Marra ma il numero nove spreca tutto con un esterno fuori. Il Teramo spinge per trovare il vantaggio, al trentasettesimo ancora una palla filtrante questa volta di Marra, apparecchia per Tomolati in aria che clamorosamente conclude alto. È l'ultima occasione del match, il Bellante si tiene stretto un gran punto e muove la classifica dopo quattro sconfitte consecutive, mentre il Teramo si rammarica per le troppe occasioni sprecate e non riesce a dare continuità alla vittoria dell'ultimo turno con la Virtus Anxanum.